Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutte e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino. Estretto all'automano materno guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Soffia dentro me di debole. Vieni, Spirito Santo. Tu sei l'amore che trasforma. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni a vincorare il regno di noi Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo 1899. Trovandomi nel solito mio stato, mi son trovata fuori di me stessa, dentro di una chiesa, ed ivi c'era un sacerdote che celebrava il divino sacrificio. E mentre ciò faceva, piangeva amaramente e diceva, la colonna della mia chiesa non ha dove poggiarsi. 1899. Nell'atto che ciò diceva, ho visto una colonna la cui cima toccava il cielo, e al di sotto di questa colonna stavano sacerdoti, vescovi, cardinali e tutte le altre dignità che sostenevano detta colonna. Ma con mia sorpresa, ho fatto per guardare e ho visto che dette persone, chi era molto debole, chi mezza marcita, chi in ferma, chi piena di fango. Scarsissimo era il numero di quelle che si trovavano in stato di sostenerla. Sicché questa povera colonna, tante erano le scosse che riceveva al di sotto, che tentennava senza poter stare ferma. Al di sopra di questa colonna vi era il Santo Padre, che con catene d'oro e coi raggi che tramandava da tutta la sua persona, faceva quanto più poteva a sostenerla, ad incatenare ed illuminare le persone che dimoravano al di sotto, perché qualcuno se ne fuggiva per avere più agio a marcire ed infangarsi, non solo, ma a legare e illuminare tutto il mondo. Mentre ciò vedevo, quel sacerdote che celebrava la messa, sto in dubbio se fosse sacerdote pure nostro Signore, ma pare che fosse Gesù Cristo, ma non so dire di certo. Mi ha chiamato vicino a sé e mi ha detto Poi al soggiunto, io ti ho chiamata per dirti, vuoi tu essere vittima e così essere come un puntello per sostenere questa colonna in tempi sì incorreggibili? Io in principio mi sono sentito a correre un brivido per timore che ancora non avessi la forza, ma poi subito mi sono offerto e pronunziato il Fiat. In questo mentre mi sono trovata circondata da tanti santi, angeli e anime purganti che con flagelli ed altri strumenti mi tormentavano, ed io sebbene in principio avvertivo un timore, poi quanto più soffrivo, tanto più mi veniva la voglia di patire e gustare il patire come un dolcissimo nettere. E questo molto più perché mi ha toccato un pensiero. Chissà che quelle pene potessero essere mezzi come consumare la vita e così poter spiccare l'ultimo volo verso il mio sommo ed unico bene, ma con sommo, un mio rammatico, dopo aver sofferto cervepene, ho visto che quelle pene non mi consumavano la vita. Oddio, che pena che questa fragile carne mi impedisce di unirmi col mio bene eterno. Dopo ciò ho visto la sanguinosa strage che si faceva di quelle persone che stavano al di sotto della colonna. Che orribile catastrofe! Scarsissimo era il numero che non rimaneva vittima. Giungevano a tale ardimento che tentavano di uccidere il Santo Padre. Ma poi pareva che quel sangue sparso, quelle sanguinose vittime straziate, erano mezzi come rendere forti quelli che rimanevano, in modo da sostenere la colonna senza farla più tentennare. O che felici giorni dopo ciò spuntavano! Giorni di trionfi e di pace! La faccia della terra pareva rinnovata, la detta colonna acquistava il suo primiero lustro e splendore. O giorni felici! Da lungi io vi saluto, che tanta gloria darete alla mia Chiesa, e tanto onore a quel Dio che ne è il Capo! Comincia così il terzo volume, con questa visione, e la Chiesa appoggiata su questa colonna, che penso che chi conosce un po' per esempio la storia di Fatima, è veramente impressionante notare la sorprendente analogia, tra questa visione e quella parte del terzo segredo di Fatima resa pubblica nell'anno 2000. Luisa dice che giungevano a tal ardimento che tentavano di uccidere il Santo Padre, addirittura più precisa. sappiamo che questo attentato sicuramente c'è stato, perché l'attentato al Papa c'è stato nel 1981, il 13 maggio dell'81, Giovanni Paolo II, sappiamo invece che il terzo segredo di Fatima dice che sembra dire, perché poi hanno sempre interpretato, che il Papa muore veramente, però dubbiamente è impressionante, e poi sappiamo anche di quella grande visione, di questa montagna aerta, dove la percorrevano, effettivamente le stesse persone di Tito qui, i dignitari della Chiesa, quindi sacerdoti, religiosi, vescovi, cardinali, e c'era una carneficina, quel sangue veniva raccolto dagli angeli, preso negli innaffiatori, e versato sul mondo e sulla Chiesa, e rinnovava il mondo e la Chiesa, insomma, questo è il terzo segredo di Fatima, che come aveva modo di dire, Benedetto XVI, nella sua visita da Fatima, insomma, quando ancora era pontefice, diciamo, in cadica, non in merito come adesso, disse, ma c'era bisogno di lui, insomma, per dirlo, che la profezia di Fatima non è conclusa, insomma, perché non si vede, almeno io, non lo vedo, insomma, attualmente, insomma, non penso che, penso che sia andato abbastanza oggettivo questo, non si vedono ancora giorni di rionfi e di pace o la faccia della terra rinnovata oppure splendere, ecco, in tutto lo splendore la colonna della Chiesa in tutti i suoi supporti, no? Ecco, quindi questo si tratta di una generalizzazione, ecco, la Chiesa sta ancora in un tempo un po' di sofferenza, di travaglio e certamente il mondo non vive felici giorni, no? Assolutamente, insomma, continuano purtroppo tanti comportamenti che sono l'antitesi del Vangelo privati e anche pubblici e anche fatti propri dagli ordinamenti giuridici, no? Ecco, meditare su questo è evidente che quel sacerdote che stava celebrando la Santa Messa è con quello che dice sembrerebbe proprio nostro Signore Gesù Cristo, no? perché poi è Lui stesso insomma che dice questo. Una visione di questo genere che cosa deve portare e comportare in noi? Ecco, perché qui il problema è questo. Come in attesa di questi giorni felici ci si interfaccia, se perdoni il termine un po' moderno, con una situazione di questo genere? Cosa ha chiesto Gesù a Luisa e cosa ha fatto Luisa? Mi serve una persona che soffra e offra. Punto. Mi serve una vittima. E Luisa si è offerta. Si è offerta ed ha sofferto. Ricordo le parole che Gesù disse ad un'altra anima santa e mistica quando spiegava i modi con cui noi figli di Dio sulle orme del figlio di Dio fatto sangue San Pietro stesso diceva Cristo patì per noi lasciandoci un esempio perché ne seguiate le orme. e Gesù in uno dei discorsi che faceva dice attenzione soffrire non far soffrire cioè soffri tu nell'ascoltimento e nel silenzio non fai soffrire gli altri con i tuoi comportamenti. qui Gesù parla e io in parte lo capisco vivendo nel cuore della mia amatissima chiesa conoscendo anche tante dinamiche di chiesa e qui parla praticamente di dice che questi flaggelli queste pene sono necessarie perché qui c'è una tale cancrena capite c'è un il termine che Gesù usa lavare quel marcioso fango e sanare le loro piaghe profonde cioè capite cioè quando c'è una situazione di male incancrenito e diffuso ma che ci vuoi fare cioè ci vuole un intervento chirurgico di alta di alta chirurgia questo per dire che nessuno d'accordo anche coloro che vedendo tante situazioni no certamente soffrono e magari vorrebbero fare qualcosa ma la percezione che si ha cioè se uno insomma sapesse in certi posti del mondo meglio non dire troppe cose che dopo ecco facciamo soffrire le coscienze anziché aiutarle ma ci sono delle aree del mondo noi stiamo in Italia insomma siamo molto meno peggio che altrove dove si vedono e ci stanno delle situazioni che veramente fanno piangere insomma piangere 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 ecco ma come per altre situazioni io tante volte no uno guarda basti guardare adesso come dire il continuo crescendo no di leggi inico che vengono fatte no poi una volta che la legge l'hai fatta ormai sono 50 anni che c'è questa legge abbiamo cominciato con il divorzio nel 70 poi con l'aborto nel 78 poi con le aggressioni alla vita la famosa legge 40 poi questa legislatura le unioni civili adesso le eutanasie i testamenti biologici come sappiamo una volta che queste cose diventano legge se piantano lì se qualcuno è capace a farle abrogare insomma alzi la mano cioè non ci sono né i numeri né la forza né la voglia ma neanche forse la possibilità umanamente parlando di mettere fine a questa situazione perché queste cose vengono presentate dalla maggioranza dell'elite dominanti in questo mondo come conquiste della civiltà come progressi come cose di questo genere alcuni cattolici fanno finta di niente altri non si impicciano altri stanno a guardare e chi ci fa qualcosa cioè non è che uno dice ci rassegniamo certamente con i mezzi a disposizione uno per esempio il popolo dei cattolici ogni anno fa la marcia per la vita personalmente io quando ho potuto sono sempre affrontato la marcia per la vita ma io frequento la marcia per la vita nella consapevolezza che questo è un segno esterno cioè fondamentale di testimonianza dentro un contesto culturale sociale e legislativo che non è che siccome ha fatto una marcia per la vita qualcuno un giorno dopo abolirà la legge 194 cioè pensare a una cosa di questo genere purtroppo sarebbe un'illusione c'è una testimonianza pubblica da parte di un piccolo greggio che dice noi siamo comunque a favore della vita ma dentro la mentalità dominante la reazione che produce dice questi sono quattro poveretti che ancora sono cattolici integralisti lasciali fa che tanto non danno nessun fastidio quindi allora che vogliamo fare la Madonna Fatima a proposito di vittime chiese nella prima apparizione ai pastorelli volete offrirvi come vittime sull'altare del mio cuore immacolato e questo come atto di riparazione per i peccati con cui Gesù è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori sì lo vogliamo bene avrete da soffrire molto ma io sarò con voi sappiamo la storia dei pastorali di Fatima due dopo sofferenze atroci dopo sacrifici di infanti eroici sono drammaticamente umanamente parlando sempre morti da bambini e sono adesso stati canonizzati dal Papa maggio scorso e sono i Santi attualmente più giovani della storia della Chiesa l'altra ha dovuto avere una vita di preghiera di nascondimento e di penitenza e quindi sono diciamo le due modalità con cui questi pastorelli hanno sostenuto sulle spalle una situazione difficile ecco questa è una via fondamentale questa è la via del Vangelo poi tra l'altro capite cioè io non credo che situazioni cioè dinanzi alle situazioni disastrose a livello governativo cosa fai? la rivoluzione? fai la rivolta armata? è cristiana una cosa di questo genere? cioè Gesù farebbe così? dinanzi a situazioni di sofferenza o di disagio nella Chiesa dinanzi a comportamenti possibili purtroppo i media non mancano mai di stigmatizzarli anche da parte di uomini pubblici di Chiesa qual è la cosa giusta da fare? scriviamo un bell'articolo su un blog e cominciamo a fare nuovi cognomi a biasimare la condotta di sdicevole di quell'uomo di Chiesa questo è quello che vuole Gesù? così anziché riparare quei mali li andiamo a diffondere ulteriormente e così i nemici della Chiesa ne traggono forza per gettargli altro fango addosso e così magari un povero fedele che ci vorrebbe provare sta presso al Signore ma ha una fede piccola sente una cosa del genere ne rimane giustamente scandalizzato e torna a peccare peggio di prima cioè è una cosa fatta bene una cosa del genere no no Gesù non ha fatto così e non ha insegnato a fare così cosa si deve fare volete offrire i vittimi c'è qualcuno che ha il coraggio non dico di sono prima di fare insomma queste cose qui di farsi carico dei mali del mondo e quindi non dico di farsi vittima però di offrire al Signore il proprio contributo magari serio di preghiera dei giorni e di notte di fare qualche veglia qualche preghiera notturna qualche rosario in più detto bene detto in ginocchio qualche mortificazione qualche sacrificio non dico essere flagellati o tormentati da santi angeli animi e purganti insomma queste sono cose abbastanza forti no ma cioè nel piccolo qui Gesù nel grande dice ciò che una volta il santo curato d'Ars disse dinanzi ad una delle soli della mentele erano cose anche antiche del resto qui Gesù parla di situazioni disastrate della Chiesa nel 1899 quindi il santo curato d'Ars non molti anni prima insomma mezzo secolo prima insomma operava verso il termine della sua vita no quindi quando andò il solito fedele a lamentarsi del solito parroco perché c'erano tanti motivi per lamentarsi parroco che non c'era mai che non pregava che non era disponibile a fare confessioni le solite cose che si sentono quindi la lamentazione non era infondata non erano calunnie erano problemi oggettivi e reali d'accordo ecco il santo curato d'Ars l'ha interrotto e gli ha detto bene quanti digiuni hai fatto tu per la conversione del tuo parroco quante preghiere hai detto nessuna io allora non te voglio lamentare e io non te voglio sentire non è proprio così ecco l'episodio ma il senso della tua risposta era questo e la stessa cosa faceva quando i preti perché si lamentano i fedeli del parroco e poi si lamentano i parroci dei fedeli capito ah la mia parrocchia qui non vi era messa nessuno non si compensa nessuno sono una banda di sciacurati sono tutti lontani sono freddi bestemmiano sono indifferenti quindi i preti andavano a lamentarsi al santo cronodars e cominciano a dire bene quante discipline hai fatto per tutti i tuoi fedeli per la loro conversione al parroco il parroco rimaneva un pochino un pochino con la faccetta perplessa adesso questi aneddoti sono altro che la stessa cosa che cioè cosa ha fatto Gesù per salvare l'umanità cosa ha fatto ha fatto la rivoluzione è andato in croce perché si è rifiutato di fare la rivoluzione Giuda questo voleva Giuda voleva che Gesù Cristo come del resto volevano gli zeloti facesse una bella rivolta armata cacciasse i romani che era un'ingiustizia d'accordo la prepotenza romana si ha fatto l'impero ma io dico ma perché gli andavano con loro un esercito sanguinoso spietato soggiocavano le popolazioni imponevano ma che vogliono questa è un'ingiustizia questa qui non è un'ingiustizia che cosa si direbbe oggi sono una cosa di questo genere è un'ingiustizia ma Gesù cosa ha fatto si è ribellato all'ingiustizia no ed è stato messo in croce per questo motivo Giuda l'ha tradito per questo motivo e il capo di imputazione falso di Gesù era il re dei giudei quindi gli erano inventati il delitto di lesa maestà se lui si presenta così è perché vuole rovesciare l'impero di Roma sta attento Ponzio Pilato che se non lo condanni andiamo a dirlo a Tiberio e ti rimuove questo è pericoloso questo vuole fare il regno di Israele Gesù è stato condannato per questo ma ha fatto questo Gesù ha fatto questo aveva spade aveva miliziani aveva anche stili guerrieri guerreschi di darli a destra a sinistra sì il Vangelo ci riporta due episodi due la cacciata dei mercanti del Tempio e le invettive contro i farisei basta ma sono due episodi estremi e dinanzi a situazioni estreme dove chi ha agito è il figlio di Dio ma sono due sparuti episodi due era questo lo stile ordinario che Gesù aveva non ha fatto questo Gesù si è preso tutto il mare è stato di sedere morto in croce quindi dinanzi alle situazioni di sofferenza se uno come dire nel suo libero arbitrio vuole chiamarsi fuori e dire ma chi se ne importa certamente non è una soluzione benedetta dal cielo però faccia pure ma se qualcuno vuole intervenire farsi carico di questa situazione in nome di Gesù deve farlo con lo stile di Gesù tu si ci metti dentro ci soffri innanzitutto per la situazione in se stessa e soffri per la situazione cioè tu ci soffri per la situazione in sé e tu scegli di soffrire per quella situazione non dico ripeto offrendoti come vittima questi sono gesti estremi che non tutti possono fare non ci si scherza con queste cose però lo stile pregate e fate penitenza per la conversione dei peccatori perché un sacco di gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi questo si può fare certamente e certamente anche le offerte le preghiere le penitenze contribuiscono a fare in modo che questa purificazione avvenga diciamo così nella maniera meno cruenta possibile insomma noi stiamo ripeto quello che Luisa vede è quello che ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa è stato affermato insomma durante le memorabili apparizioni di Fatima il 2017 è terminato quindi il centenario è stato compiuto il centenario è stato sancito con la canonizzazione dei pastorelli ma siamo ancora in attesa di questo benedetto trionfo del cuore immacolato di Maria perché non si vede allo stato attuale in giro quindi penso che questi richiami siano da prendere molto 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 sul serio molto l'amore comporta il sacrificio e l'amore autentico è modellato su quello di Gesù e di Maria altre forme di azione pur certamente comprensibili ma rappresentano modalità di affrontamento del problema non cristiane io oserei dire demoniache d'accordo demoniache perché non fanno altro che metterci gli uni contro gli altri alimentare polemiche alimentare discussioni scandalizzare i piccoli seminare discordia cioè quindi anziché risolverlo il problema lo aggravano ne mettono ne mettono sopra io penso che tutti dobbiamo confrontarci metterci davanti al crocifisso questo il messaggio del crocifisso è un messaggio universale qual è la soluzione che Gesù ha dato al problema del male e qual è una sola me lo prendo io in silenzio e lo offro e basta ci piaccia o non ci piaccia questo è un dato oggettivo questo qui nessuno lo può contestare nessuno e i discevoli di Gesù se vogliono essere tali ripeto se uno si vuole defilare e dire non mi interessa non sono affari miei ripeto ha il libero arbitrio per poterlo fare faccia pure senza la benedizione di Dio perché dicono ben lì certamente l'indifferenza però almeno fa meno danni piuttosto che andare a affrontare certe situazioni con uno stile che non c'è niente a che fare con quello dell'agnello immolato noi seguiamo l'agnello immolato Luisa è stata vittima immolata tante altre anime vissute nel secolo scorso ce ne sono state veramente tante e ce ne sono sicuramente tuttora in giro c'è nessun dubbio che ci siano in giro delle anime vittime questo è sicurissimo questo qui anche se non sappiamo chi sono sicuro queste continuano a tenere a reggere a sorreggere sulle proprie spalle la corona della chiesa cooperando con l'azione purificatrice della divina provvidenza accelerando sicuramente i tempi del rinnovamento della chiesa e facendolo nel modo più gradito al signore nell'ascoltimento nel silenzio e nell'offerta generosa prendendo su di sé molti dei castigli che spetterebbero ai reali colpevoli riparando i loro peccati e impetrando dal signore le grazie sospirate per il rinnovamento della chiesa del mondo questa è l'unica cosa che chi ha a cuore le sante cause può fare con grande benedizione di dio e con grande ricompensa in cielo grazie a tutti O Divina Maria, abbiamo ascoltato la via che tu per prima hai percorso e che è l'unica da percorrere per coloro che fanno professione di fede divina e cattolica. La vita nella Divina Volontà, come sappiamo, è vita tutta interiore. I più grandi negozi e traffici, come li chiamano i maestri di spirito, tra Dio e le anime si fanno nel più assoluto silenzio e nel più assoluto segreto. Dio non ama clamori, media, televisioni, risonanze, palcoscenici, riflettori, clamori e altro. Le più grandi operazioni, l'incarnazione è stata fatta alla sua autopresenza, la nascita di Gesù alla sua autopresenza, la passione e la presenza di pochi testimoni. Gesù sembrava un criminale come tanti altri che veniva condannato. La risurrezione non l'ha vista nessuno. che la tua mano materna ci ricordi sempre tutto questo per farci comprendere come è nel silenzio della nostra preghiera, delle nostre offerte conosciute da Dio solo, delle nostre lacrime versate dinanzi a Lui, del nostro tutto tutto cercare di compiere nel divino volere e per la sola sua gloria e in riparazione dei peccati è in tutto questo che si gioca non soltanto la vicenda della personale santificazione di ciascuno, la possibilità di entrare nel regno aureo della Dina Volontà, ma è qui che si giocano anche le sorti dell'umana società intera e della Chiesa tutte. Che i tuoi figli o mia Divina Maria imparino da te questo su cui Gesù ci ha fatto meditare e su cui tu poi ulteriormente avresti pubblicamente fatto meditare a Fatima la Chiesa intera. Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Fiat Ave Maria